Ci aspettiamo molto da voi. Pronto? Mai. Godetevi la corsa. Eccellente. Corri. Ciao futi da... E ciao a tutti da Valeria. Oggi parliamo di errori. Sì, perché nel girare le scene di un film, come ben sappiamo, di errori, papere e sviste, ce ne possono essere. E sapete qual è il film con più errori in assoluto? Ve lo dico io. È Apocalypse Now del 1979, che raggiunge 390 errori nascosti più o meno bene tra le sue scene. Segue a ruota Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del 2004 con 296 sviste. Poi c'è un altro film di Harry Potter, La Camera dei Segreti, del 2002, che ne ha 289. Superman 4, dell'87, ne ha 267. E infine c'è Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, del 2001, con 262 errori rimasti nella pellicola. Bene, se amate l'argomento, quindi gli errori nei film, guardate i miei video proprio sugli errori. Trovate le puntate del lato V in descrizione, qua sotto, qua sotto al video. Ciao, al prossimo video.